Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. È appena finita la partita tra Juventus, Primavera e Cagliari. Primavera. È finita 2-0 per la Juventus. Prima rete di Sule, su cross di Intendà. Sule l'ha messa dentro di testa. E seconda rete nel secondo tempo di Miretti, su assist stavolta di Mulazzi, mi sembra. Allora, non parlerò tanto della partita perché l'ho guardata più o meno, nel senso ogni tanto la guardavo per vedere il risultato, ma ero veramente stanca, quindi ho fatto, diciamo, mi sono un po' rilassata oggi pomeriggio, perché se no la partita di stasera dell'Italia la vedo col binocolo. Comunque parlerò del fatto che, appunto, adesso andiamo ai play-off. Purtroppo non siamo fra le prime due, quindi non saltiamo un turno di play-off. Abbiamo gli stessi punti dell'Inter, ma non sono abbastanza, nel senso, Penso che la Juventus primavera a sto punto abbia anche la stessa differenza reti dell'Inter, perché prima della partita l'Inter aveva 22 di differenza reti e noi 20. Dopo sta partita, se la matematica non mi inganna, l'Inter dovrebbe essere rimasta a 22 perché ha pareggiato, e la Juve, invece, avendo fatto due gol in più, dovrebbe essere andata a 22. Quindi stesso punteggio, stessa differenza reti, purtroppo, però, mi sa, valgono i gol negli scontri diretti, forse, non lo so. Comunque, fatto stare, ragazzi, che non siamo arrivati tra le prime due, ci classifichiamo terzi, e quindi dovremmo fare anche il primo turno dei play-off. Peccato perché, comunque, fossimo arrivati secondi, almeno ci riposavamo un attimo. Non è così, va bene, affronteremo l'Empoli nel primo turno dei play-off. E se dopo passiamo il primo turno, affronteremo l'Inter. Io qua lo dico, se la Juve primavera arriva in finale dello scudetto, per lo scudetto fino a primavera, quindi nella finale dei play-off, andrò a vederli. Non ho idea di dove si tenga la partita, spero non troppo distante da dove abito io. Se è troppo distante, ragazzi, mi dispiace, non andrò a vederli, però se dovesse essere a Torino, a Milano, o in un punto prestabilito, tipo, non lo so, di solito la fanno nello stadio del Sassuolo, ogni tanto, tipo quella femminile, boh, vabbè. Avete capito. Se non la fanno tanto distante, potrei andare a vederli. Fatto sta che comunque finisce così, affronteremo l'Empoli, speriamo bene, speriamo di andare più avanti possibile. I ragazzi hanno fatto un percorso che io non mi aspettavo assolutamente quest'anno, considerando anche l'età media della nostra primavera, io veramente sono rimasta più che sorpresa della nostra primavera, in positivo. Avevano, veramente hanno avuto un periodo in cui sembrava quasi che potessero vincerlo, lo scudetto, ma poi ovviamente sono calati, era fisiologico, però veramente, cioè no vincere lo scudetto, nel senso arrivare primi, dico. Comunque va bene così. Mi stupisce il crollo clamoroso della Roma, sinceramente, che è arrivata quarta. Davanti a noi ci sono Inter, che l'ho già detta, e la Sampdoria, che è prima attualmente. Ecco, anche la Sampdoria, complimenti veramente alla Sampdoria, perché anche quella non me l'aspettavo, mi aspettavo che la Roma facesse bene, mi aspettavo che l'Inter facesse bene, non mi aspettavo assolutamente la Sampdoria così in alto e l'Atalanta al quinto posto, mi sembra. Però vabbè, va bene ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juventus primavera, dopo arriverà il post partita di Svizzera Italia. Penso che in questo momento stiano facendo Turchia Galles, o comunque penso che la faranno a breve. Vabbè, sempre fino alla fine Forza Juve, appunto, e Forza Italia per stasera. Ciao ragazzi!